Senta io sto a via del Forte San Giuliano 2, credo che siano entrati dentro al palazzo perché suonavano e qualcuno deve averli aperto, perché sento vociare nelle scale e credo che siano entrati dentro, ci sono dei lacrimogli nella strada e cercano di entrare dappertutto. Forte San Giuliano? Numero 2, sì, sono nelle scale. Signora, lei si deve chiudere in casa, comunque c'è la manifestazione da quelle parti, quindi la polizia tarda ad arrivare. Ma c'è la caserma, però lei ha chiamato il 113, 112, mandiamo qualcuno.